Bene, ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video. Io sono Fox, ragazzi, e oggi mi sono un po' organizzato così alla svelta per farvi un video, credo, interessante. Mi sto basando su una bolletta reale energetica ricevuta dal Servizio Elettrico Nazionale e vogliamo andare oggi con voi ad analizzare i consumi quotidiani che ognuno di noi potrebbe pure avere. Questi calcoli che io ora farò, ragazzi, potete farli anche voi, tutto partendo dalla bolletta che vi danno. Sappiate che le bollette che vi inviano a casa non sono bollette complete, ma sono bollette riassuntive. Se vai sul sito del tuo Servizio Elettrico, che sia operatore, Enel, eccetera, eccetera, potrai scaricare la bolletta totale dove vanno a scriverti e specificarti tutti i consumi, tutti i vari costi. Ragazzi, ora io vi farò vedere quanto è nel concreto il consumo di materia e energia fatto in questi due mesi. E allora, questa è una bolletta che va da febbraio 2022 a marzo 2022. Totale 282.84 euro. 282.84. Ricordatevi questo numero. Bene, già mi sono creato qui una sorta di calcolo così non fare tanta confusione, perché ragazzi ci sarà tanto da dire. E allora, abbiamo consumato. Andiamo a vedere intanto la bolletta. Oltre al prezzo dobbiamo andare a vedere anche quanti kilowattori, kilowattora, in un anno noi consumiamo per vedere appunto di dimensionare al meglio anche l'impianto fotovoltaico. Perché se l'impianto è troppo piccolo, non ne avrai chissà che risparmio. Se l'impianto è troppo grande, è allora buono. È sempre meglio che sia un po' più grande. Sono 4051 kilowattora, perciò in un anno, un anno consumo, 4051 kilowattora. Ora, bene, e allora intanto vi posso dire che se noi facciamo 4051 diviso 365 giorni, abbiamo circa 11 kilowattora al giorno. Perciò vuol dire che circa il nostro appartamento in un giorno ci consuma 11 kilowattora. Perciò il nostro impianto solare fotovoltaico, eolico, ciò che sia, di produzione di energie alternative, dovrebbe darci almeno, almeno, 11 kilowattora al giorno. Bene, questa bolletta nel concreto è arrivata da 576 kilowattora. Perciò in questi due mesi si sono consumati questi kilowattora. e mi hanno chiesto 0,49 euro lordi, no, netti, queste sono con tasse, sì, con tasse per kilowattora, ok? Perfetto. Se io vado a scorporare le tasse, che ce ne sono una valanga, brutti stronzi, andiamo a 0,36 euro per kilowattora. Perciò facendo poi la moltiplicazione ovviamente arriviamo ad avere il totale della bolletta, che è questa qui, 282,84. Da questo è normale che devi andare anche a levare quei 10 euro iniziali, che sono quelli 18 euro. 18 euro iniziali quelli della bolletta, del canone, quell'altra truffa legalizzata italiana. E comunque va bene, abbiamo fatto così. Ora, un, qui, quota fissa, quali sono le spese che loro ci hanno fatto pagare nella bolletta? E allora, iniziamo a dire che da 282,84 euro pagati per soli 576 kilowattora, noi possiamo andare a togliere innanzitutto 18 euro, ok? Che sono perciò, abbiamo detto, tv. Poi dobbiamo andare a togliere. E abbiamo come risultato 264,84 euro senza tv. Bene. Andiamo a levare altri 9,88 euro che ci hanno caricato di accisa gli scaltri. Accisa. Andiamo a levare altri 24 euro. Queste sono tutte voci, ragazzi, riportate sulla bolletta quella totale. Leviamo anche questi. E infine abbiamo 212,46 euro pagati, richiesti per la sola materia energia, ragazzi. Solo materia, energia. Da questo poi ovviamente c'è anche defalcato il trasporto, tutte quelle boci che vanno a mettere qua, vedi? Spesa energia, trasporto, oneri, eccetera, eccetera. Di questi 212,00 euro, ed è spesa materia. Materia. Della quale 18,42 euro, ancora, sono di trasporto, perché ora si fanno pagare anche il trasporto, certo. Cioè non sanno più dove prendere, dove prendere, dove prendere. Non sanno più da dove prendere prima. Perciò, 212,00, qui, io mi voglio, lasciamo stare le tasse, perché sono alte, sono tante, non ci vogliono, ci rovinano, bene. Parliamo sul costo energia. 212,46 euro, richiesti per 576 kilowattora. Ragazzi, un impianto fotovoltaico che mi produca questa energia, ok, che mi serve, è l'unica soluzione. Però il problema sta, come io dimensiono questo impianto fotovoltaico? Quanto deve essere potente la batteria, mi serve o non mi serve? Ragazzi, tutto dipende nel concreto da questi dati, dai dati che hai dal tuo fornitore ente energetico. Sappi una cosa però, un fotovoltaico parziale ti può aiutare tanto quanto. Perché? Perché anche se tu non hai consumi, e mi è capitato in un altro mio locale, consumi bassissimi, ragazzi. Oltre ad avermi addebitato 171 kilowattora dopo circa due settimane dal primo contratto, 171 kilowattora, ragazzi, che io ne avevo consumati forse 12-13 kilowattora, mi hanno nei mesi successivi stornato una ventina di euro degli 80 già pagati in precedenza. Ragazzi, e poi, ciliegina sulla torta, mi hanno richiesto altri 80 euro. Cioè, io non ho neanche consumato 171 kilowattora e già mi hanno fatto pagare oltre 70-140, più di 150 euro, più altri 100 di allaccio del contatore. Oh, ma qua stiamo scherzando. Cioè, ragazzi, io per queste cose non ci vedo la notte. Cioè, io non dormo per queste cose. Io quando mi sento truffato, io non ragiono più. E loro, con me, ci perderanno tantissimo, e so, anche con tanti di voi. Ma no perché noi vogliamo boicottare l'energia. No, non vogliono loro fare il loro servizio per come si deve. Vogliono prendere soldi da tutti i lati. Io personalmente gli ho chiamato, gli ho detto, senti, ma se io già ti ho chiamato, ti ho chiamato, ti ho detto che ho pagato 171 kilowattora. Quando nel concreto ne ho consumato forse 12. Mi hai detto, ok, va bene, questa la paghi, però poi non paghi più niente per un paio di mesi. Bene. Perciò io ero coperto fino a 171 kilowattora. Di consumo effettivo. No. Poi l'oro, la tariffa fissa la devi pagare. L'energia fissa la devi pagare. Il trasporto fisso lo devi pagare. Ragazzi, ci sono troppi costi fissi. Troppi costi fissi. Perciò, se tu ti fai un impianto fotovoltaico, non lo fare per ammortizzare i tuoi consumi. Perché concludi, sì, ma concluderai forse un 40% del tuo problema. Per esempio con fotovoltaico da balcone. Certo, c'è chi può montare più solare, c'è chi non ha lo spazio. Ok, se proprio non ne puoi, e allora va bene. Però almeno cerca una compagnia che non ti consuma con tasse e contratasse. Che purtroppo, però oggi, tutti hanno di vizio. Tutti devono consumare e rovinare, ragazzi. Tutti dal primo all'ultimo. Detto questo, ragazzi, niente. Se tu vuoi avere maggiori informazioni su impianti fotovoltaici o altro, ti piace questo settore, iscriviti al canale, continua a seguirmi. Mi raccomando, ovviamente, io sono qui a disposizione. Se vuoi abbonati, dammi sostegno quotidiano, perché per me è tanto importante. Le visualizzazioni, ragazzi, sono importanti. Io quasi giornalmente faccio uscire un nuovo video. Valli a vedere, perché mi dai aiuto. Sblocchi l'algoritmo. Il canale cresce. I video girano per tutto YouTube. E la piattaforma si può allargare, ok? Mi raccomando. Il prossimo video, ragazzi, andremo a calcolare. Questo è un prospetto, un progetto di un impianto solare fotovoltaico. Per capire, appunto, come è un calcolatore, in realtà. Però lo vedremo poi in un prossimo video. Andando a mettere la potenza dell'impianto fotovoltaico, la capacità dell'accumulo che avrai, il limite di scarico della batteria, il consumo giornaliero, l'inclinazione dei pannelli, l'angolo di orientamento su... percentuale di giorni con batteria piena. E allora io ho messo 5400 watt, ok? Come impianto fotovoltaico, 5.4 kilowattora. Come batteria ho messo 10 kilowattora. E ho avuto un risultato eccezionale. Cioè, se i numeri fossero realmente questi, qui, questi sono i grafici. Niente ragazzi, per questo video è tutto. Poi ce lo studieremo in un prossimo video. Ti spiegherò come farti anche tu. Il tuo calcolo, mettendo il tuo indirizzo. E lui in automatico il software si va a ricercare la zona, l'altezza, le palanimetrie, se c'è ombra, se ci sono montagne, il sole in quel determinato, diciamo, in quella zona. Ecco, quanto sole c'è, tutte cose. Ciao ragazzi, al prossimo video.